A San Leone le opere di abbattimento del muro antipanoramico alla piazzale Giglia. Rimosso anche il cabinato degradante sopra luogo del videogiornale Irene Milisenda. Il comune di Agrigento ha avviato le opere di abbattimento del muro antipanoramico e degradante a San Leone, a piazzale Giglia. Nel frattempo si procede anche alla rimozione delle cabine collocate lungo l'arenile nei pressi dello stesso piazzale, conosciuto anche come Lido Aster. La questione del muro a San Leone e l'opportunità di abbatterlo è stata sollevata in principio dal consigliere comunale Gerlando G. Pilaro e poi è stata subito contivisa e rilanciata dall'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, che con una lettera al sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha sollecitato la demolizione del muro e la rimozione del cabinato. A vantaggio del panorama, il frontemare e soprattutto recuperando un'ampia zona da destinare alla fruizione pubblica. Finalmente si conclude una vicenda lunga e articolata, commenta il sindaco Firetto, che aggiunge una serie di complesse questioni burocratiche e legali hanno in questi anni negato la vista del mare dal centro di San Leone e lasciato un pezzo del litorale in stato di abbandono. Ma ascoltiamo nel merito lo stesso Claudio Lombardo per il traguardo raggiunto e sulle prospettive per la notte di Ferragosto. Sì, oggi è una giornata, una bella giornata per Agrigento, perché finalmente viene restituito ai cittadini, dopo 40 anni, la vista a mare e anche l'accesso a mare. È una battaglia lunga almeno un anno e mezzo, ancora prima della sindacatura del sindaco Firetto e oggi finalmente va a conclusione questa vicenda con l'intervento dei privati. Oggi è una bella giornata per Agrigento. Adesso quali sono le prospettive per questa spiaggia? Le prospettive sono che il privato interverrà e il prossimo anno sarà certamente questo un lido di prima scelta ad Agrigento, perché è il miglior posto di San Leone. E poi ci sarà lo spazio pubblico, perché questo è del comune di Agrigento. Speriamo che il prossimo anno ci sia un accesso per il mare libero e ben fatto. Per Ferragosto cosa succederà? E speriamo anche, stamattina abbiamo parlato con il sindaco, perché peroriamo la causa del concerto la notte di Ferragosto qui, lui lo vuole fare il giorno 15, noi siamo più favorevoli per la notte di Ferragosto che la vera festa. Stiamo discutendo se i privati partecipano anche economicamente a questa manifestazione, si potrà fare il grande concerto di Ferragosto qui in questa piazza con l'accesso al mare. Grazie a tutti.